In questo film vi racconteremo la storia di una professora d'opzione francese che si innamora di un professore di sport. Questo film è stato scritto e realizzato dal scolario Collegio Iluri, con il sostegno dei gongoni e della collettività territoriale di Gorsica in un squadro della settimana della lingua corsa. Quando pensate a Gorsica, pensate sicuramente a questo! Ma realità, un equè! Grazie a tutti! Ciò che si vede dare da me è il Collegio Iluri. Ci vedono parecchie cose. E ci sono delle cose che giocano a Mora. Ci sono delle cose che giocano a Gidara. Ah, ecco questo, il professore di sport. Ne riparleremo dopo. Il primo giorno in scuola aveva l'angoscia in corpo, aveva ragione. Allora dite buongiorno, vi presento il professore della francese, madame Durand. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora oggi, lundi 6 settembre 2014. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora facciamo l'appel. Angela, Maria. Maria. Sirena. Sirena. Carlu. 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 Lisandru. 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 E Dorian. 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 Buongiorno. E' veramente amma squadra. Come, Ayaccio? Qui si muove bastiglia, eh? Solo la squadra di Diso, là. Iè, solo bastiglia. E per sempre. Ah, del fútbol, ma io amo il PSG, sono una grande fan, sì. Eeeeeee! C'è un po' di più, non? E' un po' di più, non? E' un po' di più, non? E' un po' di più. 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 È sì, è un po' di più. E' 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 il ca Duperte è un po' di più. Il ci ha Roundrip, è è un po' di più. In questo modo, patchando le Folditone è una cosa o per CarIAN. E benuto il professore di sport, sono stata gommosa e subito subito mi piaciuta assai. Ma la campana e la scuola ci ha affrancato questo momento. E' un sogno. 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 Non c'est bene? Non c'est bene Non c'est bene Madame, abbiamo visto che vi piace Non, se vuoi restare Fai passare il capace di Corso Fai lavorare On va provare Grazie mille, a tutti a l'ora Ah sì, ultima soluzione Travai anche i bio Per prendere il capace di Corso Allora, luni Non, non diciamo così Luni Marti Non, non diciamo così Mardi Mardi Mercuri Non, non, mercuri 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 Mardi Jodi Non, fai dire Joey Joe Benari 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 Domeni Ecco Ecco, uno percorso in Luri Nenzu Un parlava mica a Corso Ma diara Nenzu Pia Questa Pia Pia Chissà Mi ha fatto un problema Il mio profese ha è un amico a lui Se non c'è un film Ma sarà a madame Djella Durand Il mio profese ha è un'amico a lui Salute a tutti! Salute! E mi parla di castagne in Castellini! Adelia! 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 F Хотя! Adelia! Sperated! un pozzo ahahahahah un pozzo non c'est bene ahahah ahahah mangi ti mangi il mangi e dai dobbè quando tu veux ahahahahah ma foto cueiii Vuoi entrare ? ... 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 Tiensi. È già da bene. Ho ora la rifnire? Pratiamo con la ideia di della constructione pratica. La stagione? Faici! Lave fu, puoi! Lave! Lava tu te laves? Qui ha? Non. Vi chiedo. . . . . . Eeeh oh ! Alla, tu vois, ti faccio un bel fracce. Devi ramèterà la scuola. Com'è, Alla, tu vois, tu vois, si tu versi tiglia. Come tu vois. Ti fa bene, ti fa bene. Tu fai molto bene. Alla, allà. Oggi, tu faccio un berzo. Alla, allò. Continu. Tu clapi e tu lo torni, tu sors du chant. Alla, se passi. Bien surin. Tu fa risqué. Alla, allò. Oggi, tu fai ero e lui, tu fai tritignol. Un'image, 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 un'image.